Sì, è la mano e è brucio, ben bronzico, sciopo come fa una monega, non mi interessa finita del fumo mentoso come soffero costiso, friso come un viso, solo io come una visata ne voglio, mi brucio acquiata, intesto frito, intelbutiro mi provo come un polpo e fiere, coio, mi faccio tirare su un paio il coio, come un calestrescoio, come un caramaro mi faccio fracar sotto, neanche fosse un paio maro, come una costesina mi cardoniso, come un speo mi brucio l'impero, come una feta di poenta mi brucio e mi stugiso, se soffio come una bronza mi impisco. Mi, non solo, animasa maedita, animasa danada, mesa impisada e mesa stuada, qualcun che il bevele un pelcadafora, il menzonerà staseno, ecco parlare furbio in cicera, il diserà, lo non solo, saliva, saliva, intelogrando fermamento, su esò parlò infinito, universo, come una faliva. Non solo, te ne fa impressione, non te l'ho mai visto così, adesso si e desi da in barro. So stufo, so agro, te lo dito, so strappo, guarda che magro, so del ventafin fa un steco, moro, fa tu posta, non so, moro, moro, non è avanto più, moro, mi copo, si tutoco, me copo, me copo, fa tu posta, te mori. Moro, moro, mi sento, non tiro più il fiare, neanche fosse in mezzo un campo di strumento per la tagliare, finirò i mesi ornai, in mezzo tutto quel fuoco, quel fumo, non vese niente da fare, mi sento. Ma se scomisci a condannare anche i nonsoi, non vese più una garanzia, ma tu capirla non solo, a se davvero finìa, non si salva più nessuno, né nonsoi, né preti, né piovani, né zagheti. Finirà tutti, interromo, non se ho senza le visioni, tin, ton, a sbrancae, via, do eti, desagheti, tin, ton, via, do tre eti, de preti, tin, ton, via, do tre brassae, né piovani, na smanada de mone, na scaretada de nonsoi nostrani. Lo so, non so, vuolto che sappia, non capisco più niente. Sono solo un amico lavorato, lavorato davvero, con queste domande, anche a farmi la casa, ma è detta maiettia di apieta, famiglia, anche a famiglia, ti aggrappolo io, e se a te lì, e poi a farei, a fin da c'è, o a dalla erba, a via dove, a farei, se non è che ti segna, è come che ti segna, gravi, mi detto, lo dico, non vuoi insistere massa a portare tutte le roglie in piazza, ma deve, deve parlare bene, tenerte in conto, con calma di tutto, ma proprio di tutto, prima di rovinare uno, e manca lì anche a quella, dove lì a veda, anche a che ora, scusesse, vado, so stesso ciò, che uno si alza da letto la mattina, poi veda lì, ai cinque, dove in piazza, anche a con la guasa, tutti gli infossi, che ancora mi ricordo, con la crosta, la crostona così, dura, dura, leggezzo, posso o non posso dire? Certo che posso, e come che posso? Se me brusè, vuoi manco parlare, difendermi, dire me la so, stiamo, come, anzi, ma, se me parlare, se me parlare, con nostro signore, sì, sì, mi vengono capire, io, eh, per se me interesse, vuoi parlare con nostro signore, con il Cristo, in carne e ossa, tanto ormai, perso, va perso, Massimo, il meccasaradu, si imbasso, che in basso, non si può, e sarà finire, sì, con nostro signore, mi sento qua, mi aspeto, anche se che se mi aspetta un bel tocco, arrivarà, e gli darà maiare anche un buco, ma qualche ora, non lavorerà a mia sette, die notte, senza remissione, disegno, che mi son qua, son qua e ospeto, che il venia pur col volo a soccarlo, col pol, e se sente anche, e danno un tasso, dopo un fiantino, dopo un mannato, e poi, insomma, andassero a pisoccarlo, su il suo divanetto, qua su un quartino, sui genocci, gli dice che non mi piace un po' meglio, dopo un mannato, gli mancheria anche altro, fa sempre questo, come, ma, io ho il parolo di fare quello che vuole, il parolo di Dio, che mancheria anche quella, qua, si parla, e gli esi, ma lì, lì da qua non mi muovo, anche se avvengiano a sto concetto, lì da qua non mi muovo, signor Benedetto, che aspeto, che aspeto, e come che aspeto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.